Undead murder farce, e niente, abbiamo essenzialmente proseguito con le analisi e gli interrogatori per capire chi può essere l'assassino, le cose si sono fatte un po' più interessanti, abbiamo scoperto che esiste una terza persona, o comunque che c'era una sorta di complotto all'interno della casa che teneva in considerazione un cacciatore di vampiri che veniva dall'esterno, quindi è probabile comunque che effettivamente una persona dall'esterno c'era, ma non è lui quello che ha compiuto l'omicidio, bensì quello con cui si era alleato e che si trovava all'interno della casa. Non so addirittura se questa persona che si è alleata con il cacciatore di vampiri che viene citato nel finale dell'episodio è uno della famiglia, cioè se è il figlio della tizia, mi sembrerebbe molto strano. Quindi attualmente, considerando che io prima pensavo che poteva essere una cosa fatta da più persone, però all'interno della famiglia, quindi pensavo che potevano essere stati i maggiordomi con la complicità di uno dei figli, per qualche motivo magari odiavano la madre, adesso mi verrebbe da pensare che i figli probabilmente non c'entrano e che è stato il cacciatore di vampiri che veniva dall'esterno, questo tizio qua, in combutta con uno dei maggiordomi. E visto che ci siamo, potrebbe essere, io la butto lì, che effettivamente il maggiordomo con cui è in combutta è proprio lui, è proprio Alfred. Perché, sia perché in realtà mi ricorda il cacciatore di vampiri, quest'Alfred, cioè considerata l'età e anche il tipo di faccia mi sembrano simili, il cacciatore che ci hanno fatto vedere nel finale ed Alfred, e anche perché in effetti, potrebbe avere senso, magari potrebbe essere il fratello di Alfred e per questo Alfred si è voluto vendicare o comunque ha voluto allearsi per qualche motivo. E' strano, cioè è strano perché alla fine questo Alfred si trova in questa famiglia da vent'anni, cioè lui ha detto che è da vent'anni che serve questa famiglia, quindi la trovo una cosa un po' particolare che, cioè non credo che abbia fatto tutto sto casino solamente per uccidere un vampiro, probabilmente ci sono altri motivi dietro. Però sì, attualmente, se vi dovessi dire quelli che mi sembrano più sospetti, anche per come ha risposto Alfred quando hanno detto che erano andati nella foresta, insomma è rimasto un attimo stunnato, mi verrebbe da dirvi che sicuramente Alfred c'entra qualcosa, poi non so se addirittura oltre ad Alfred c'è pure qualcun altro, però per ora vi direi Alfred. Alfred è alleato con Batman, esatto. Sì sì, abbiamo già guardato tutto Renata, poi in caso ti puoi recuperare la live. Comunque sì, ripeto, l'episodio bellino, non è che sia successo molto, semplicemente analisi, interrogatori, cose di questo tipo, continuo a dirvi che sì, anche a me il rapporto tra loro due li trovo letteralmente perfetti. Cioè l'oni e il fushi, quindi l'essere immortale, la ragazza senza corpo e lui che è metà uomo, metà diavolo, veramente tanta tanta roba insieme, mi sono piaciuti. Tra l'altro comunque l'episodio riesce sempre a mantenere dei toni cupi e a tratti anche inquietanti, soprattutto quando vanno nella foresta e quando ad esempio fanno queste inquadrature qui. Ci sono anche delle colonne sonore molto interessanti durante l'arco degli episodi e in generale la qualità è sempre elevata. Quindi per quanto mi riguarda per adesso Undead Murder Farts continua a non deludere. Per chi magari potrebbe pensare che questa parte qua magari è un po' noiosa e che sta durando troppo, perché in effetti durerà tre episodi questo arco narrativo dei vampiri, sì, posso capirlo effettivamente che forse sembra durare un po' troppo, però effettivamente ci dovevano far vedere le capacità analitiche della donna, le capacità analitiche della testa, perché ricordiamo sempre che questa serie ci viene presentata come due persone che fanno i detective, quindi ci devono far vedere effettivamente le loro doti da detective. E quindi, insomma, mi va pure bene che due o tre episodi siano incentrati su questo caso di prova, essenzialmente, ci faranno vedere questo caso, poi spero che non ce ne faranno vedere un altro, cioè un altro uguale, perché alla fine questo qua serve semplicemente per darci un'infarinatura su come si muovono e su come si comportano in queste situazioni. Credo in realtà che già tra due episodi, cioè già dal quarto, anzi già dal quinto episodio in poi, magari sì, ci potrebbero essere altri casi, però la situazione potrebbe farsi più interessante, cioè potrebbero magari entrare in gioco Sherlock Holmes, che è stato citato in questo episodio, oppure che potrebbero magari trovare degli indizi su quelli che hanno tagliato la testa appunto alla donna, a lei. Quindi sì, per quanto mi riguarda vi direi o lo stesso voto della scorsa volta, o qualcosina in meno, tipo 0,25 in meno. Ah, e tra l'altro dovremmo decidere se continuarlo, perché in effetti, siamo arrivati al terzo episodio anche di Undead Murder Farts. Quindi sì, se allo scorso ho dato 8, a questo mi verrebbe da darvi un 8 o meno, probabilmente. E un 100% delle persone lo vuole continuare, anche se vabbè, siete comunque un pochino, posso dirlo, un pochino tirchi con le votazioni, perché siamo in 70 e hanno votato in 10 persone, e insomma, però vabbè, comunque lo continueremo, lo continueremo. 100% continua, anche perché, parliamoci chiaro, è uno dei pochi decenti che ci sono. Quindi, ricapitolando, giusto per fare un piccolo riassuntino, per adesso, quelli che abbiamo scartato sono The Girl I Like, perché fa cagare, Liar Liar, perché fa cagare, ma è meglio probabilmente di... o comunque sullo stesso livello di The Girl I Like. Penso mi sia piaciuto di meno The Girl I Like, per certi versi. Abbiamo deciso di continuare Rant, perché non c'è un cazzo di niente. Abbiamo deciso di continuare Undead Murder Farts, quindi per adesso il sabato vi confermo Undead Rant. I due, che teoricamente sono in dubbio, sono Dark Gathering e Delk. Quindi i prossimi che proveremo a vedere se li continueremo oppure no, sono Dark Gathering e Delk. Letteralmente non c'erano proprio altri anime da provare a continuare. Ci sarebbe Tempuru, se proprio vogliamo proprio fare una seratona incredibile, però io mi verrebbe da dirvi che, boh, Tempuru, non credo che si meriti la regola dei tre episodi, però volendo potremmo pure provare. E letteralmente non c'è nient'altro. Un pochino mi dispiace per My Happy Marriage. Sarò sincero, un pochino mi dispiace per My Happy Marriage, però sono dell'avviso che di sicuro sarebbe stato meglio di The Girl I Like e di Liar Liar, questo è in dubbio. Però sono comunque abbastanza convinto che dopo l'episodio 6 comunque ci saremmo accorti, pure come per Yamata-kun, ci saremmo accorti che non è proprio un anime adattissimo alle live. Ho questa impressione, perché comunque ho visto fino al terzo episodio, e posso dirvi che secondo me non è proprio, capito, un anime adatto per le live. Forse è meglio guardarselo da soli, però avremmo potuto provare a includere pure questo, quindi sì. My Happy Marriage è piccolo, no no, ma infatti è bello. Quindi in questo caso ci sarebbe potuto stare, ormai non l'abbiamo incluso, pace. Quindi in realtà vi direi che, dato che per adesso abbiamo solamente solamente Rent Girlfriend e Undead Murder Farts, se rimanessero solo loro due, quindi se Dark Gathering, cosa molto probabile, ed Elk, cosa probabile pure lui, faranno flop, e raga, penso che metteremo Rent Girlfriend e Undead Murder Farts il venerdì e la domenica. Probabilmente invece di fare tre serate ne faremo solo due questa stagione, perché non c'è praticamente niente da vedere.